This is Ledge, nuova entrata di qualche tempo fa con If You Really Want Me Al 37 in escesa di 3 posizioni questa settimana i 30A Special con Aldon Leslie, 36 di Clear, con The Clear Thing e ci fermiamo ancora una volta al numero 35 per ascoltare ancora una nuova entrata della nostra Top 50 35 Nuova entrata Sono gli Stranglers che arrivano dal loro ultimo 33 giri intitolato The Man in Black Al numero 35 questa settimana un'altra nuova entrata della nostra Parade la cura degli Stranglers con il loro ultimo The Man in Black un disco che è stato anche full position degli 88200 di Mirage intitolato Just Two Sands Fox